Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono XPackard e oggi sono con Alex, lì c'è anche Diego ma non c'è un po' di far nulla Buongiorno Eh sì, buongiorno, sono sempre... boh, sarà... l'abbiamo fatto dopo il video di prima, saranno le 3, 50 boh All'incirca Vabbè raga, noi nel titolo mettiamo alle 3 di notte, tanto è sempre quello E nulla raga, siamo tornati sulla tavola ufficia raga, per questo grandissimo ritorno arriviamo almeno a mille like Commentate, iscrivetevi e passate dalla mia pagina di Instagram, anche trovate sotto in descrizione E nulla, vabbè, c'è anche TikTok, lo usiamo così per fare gli stupidi, se ci volete seguire benvenga E nulla, sento il Todi che c'è un po' d'ansia da 3 ore fa Ok, iniziamo? Ma raga, mi raccomando, lasciate tantissimi like Vai, 3 G e sulla G 2 2 G e sulla G Si vede? Guarda, dirigi Prego C'è qualcuno qui? Non c'è quello lì, fai rumori sul divano? C'è qualcuno che vuole entrare in contatto con noi, parlare, dicci qualcosa o al cesso ossa? Che miseria Ok, cos'era? E l'ho vista anch'io? La luce qui, vero? No, da qui sul muro Non è che è quello il cellulare? No, questo non fa luce L'hai vista, vero? L'hai vista, ti parla la luce? Fra, era qui No, io l'ho vista qua su Ma l'ho vista qui, tipo Chiedi? Bene, sappiamo che ci sei allora Vogliamo sapere il tuo nome Che miseria Oh, che dire, stai fermo Veniamo dalla cuscina se ho sbagliato Sei stato te prima o no? Cosa? Fai rumore Fai rumore Diciamo noi le lettere Tipo A K K A K A K F A K F E E Che vuol dire? Volevi dire A K F E' il tuo nome? No Allora cosa vuol dire? Spiegacelo W G G W G K Non sta dicendo a rosa a caso? No No Hanno un collegamento a queste rosa Cos'era? 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 Salle Lo Lo Che cosa c'è Se non è? Ma che caso fa? Sta puntando verso Diego Guarda 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 Si gira verso lui Guarda Lo sta puntando Oh No raga è qualcosa Sperimentoso Perché Guarda 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 Oh Di nuovo la luce Luce? No io non lo vedo Si si sul muro Ora Ma è anche il tuo cellulare? Tu l'hai tirato? No C'era stata la luce Oh Perché ti hai spuntato queste cose sul cellulare? Numero privato Boh Spegni 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 Dici il tuo nome Dai B I B B B Cosa sta a te? Qualcuno è? B 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 Stai dicendo cosa è al caso? Lo vedo No Eh no Noi non capiamo B B B B B B B B B Guarda se le macchine prezzi QM Che vuol dire? Non riesco a capire Fai qualche domanda Chi sei? Ma cos'è Studin? Fatti Dai basta giocare Ora passiamo le cose serie Dici chi sei No Se qualcuno l'abbiamo già incontrato Sei tu che ci mandi le chiamate private Sì o no? Vogliamo una risposta Che sta facendo? Sta puntando verso il telecamera Cos'è quella cosa? Che cosa si luna so Ah no è la pubblica Zeta raga Sta puntando verso di là Sbaglio ho visto una cosa passare Sulla telecamera Era un passo dietro di noi Bravo 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 Senti senti Sto camminando Bravo bravo Guarda Era un passo per se di là Guarda Cosa Al muro No vabbè penso sulle macchine Guarda 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 il muro Cosa? Guarda il muro Aspetta guarda Possiamo chiudere Con noi Dai Bravo Continua a camminare verso di noi Vieni Guarda il muro guarda C'è stato un ombre Questa voce C'è stato te Cosa io sono ferme Guarda 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 No io non ho visto nulla stavolta Guarda Dai Sei dietro di noi Sei venuto qui Mi fa male la mano Mi viene Raga sta facendo cosa a caso La stella Guarda guarda ancora Guarda Ma cosa stai vedendo? Ma come fai la stella? Quelli Devevo fare il basso sul muro Oh ti mi fai preoccupare Guarda il muro Guarda Ma non si vede niente Punto Ma sei scemo? Aspetta Aspetta cosa non c'è nulla Si Si cosa? Ma cosa c'è? Non lo so Non ho visto nulla Ho visto solo una volta un'ombra e basta Aspetta Oh C'è sta cosa è strana Che puntava Diego Eh Fatti Bravo Bravo Prima lo puntavo Dai basta a fare i giocetti Però eh Oh Che cazzo era Era una chitarra Una musichetta Hai sentito? Te hai chitarra in casa? Era una chitarra Era una chitarra Si Chiudiamo Chiudiamo Andiamo a vedere chi c'è Andiamo su Gira sta cosa Raga Ah qui c'è Diego sempre Vieni a noi Che è sto rumore? I rumori venivano dalla Qua raga Cos'è? Un coltello Un coltello Era a terra Vedi se è volato qualcos'altro Non penso Mi si è storto tutto Quella luce è normale Faccio così Guarda Lì? Si si Lo faceva di solito Sempre Raga Qui c'è qualcosa per terra? No Questa porta è chiusa Non mi fa paura aprirla E meglio resta chiusa? Di nuovo Di nuovo Mi senti tu Si Ma da dove vieni? È tipo rumore di acqua Senti È vero È acqua Lo senti? Vieni dal bagno Ah questa era fuori Questa era fuori Si E' acqua È uno scarico Ma perché? Non mai ha fatto questo suono Oh tieni la volta Perché non ci sono un po' dentro È uno scarico Raga quindi nulla Spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate tantissimi like Commentate Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto E noi raga Ci vediamo al prossimo video E' questo Dai Iscrivetevi